Per questo noi abbiamo deciso con Mattia, e naturalmente con Rete55, di avviare dalla prossima settimana in questo spazio un appuntamento dal titolo emblematico, lo Sport in città, perché quello che vogliamo fare è andare a indagare il tema degli impianti, delle strutture, dei palazzetti, diciamola così, un po' volgarmente. Se ci pensi, e tu ovviamente che mastichi la materia già lo sai, da indagare c'è parecchio, perché abbiamo il progetto del nuovo palaghiaccio a Varese, il progetto già lanciato del palaghiaccio a Bustressizio, dove sorgerà anche il palaginnastica atteso da decine di anni, da una società ginnastica che in quel di Busto sa il fatto suo, e sforna olimpionici, ma c'è anche il progetto della ex Aermacchi di Varese, cioè ci sono tanti nodi da sciogliere, ossola compreso, che non sono semplicemente templi dello sport, sono strutture che significano nuovo volto urbanistico e una ripartenza funzionale all'orizzonte che vogliamo dare a questa comunità, in termini atletici e non solo. Esatto, tra l'altro lo diciamo proprio in una maniera importante, la ripartenza vera deve iniziare proprio dai centri sportivi, è da lì che noi fissiamo un po' la nostra mission. Guarda, faccio una battuta, perché è una battuta e perdonate l'ironia, ma non è infondato quello che sto per dire. Ad oggi l'unico impianto sportivo che non solo non è mai stato messo in discussione, ma è stato magnificato dal mondo intero, è il lago di Varese, considerato eccezionale per la bellezza, che è ovviamente una bellezza naturale, ma dotato di una funzionalità tipica dei bacini artificiali. Ovviamente stiamo parlando del canottaggio, perché il nostro è un territorio dei remi. Ecco, questo è un motivo di vanto, però non può mica essere l'unico, non può essere solo madre natura averci regalato l'unico impianto indiscutibile. Allora, la strada è lunga, in passato tanto si è fatto, adesso a distanza di 50-60 anni è ora di avviare un nuovo corso. Allora, la strada è l'unico impianto indiscutibile.